In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa, il Consiglio regionale, attraverso il Comitato Diritti Umani e con il Centro per l'UNESCO di Torino e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, ha organizzato un convegno a Palazzo Lascaris sul tema Libertà di stampa e libertà di pensiero, informazioni e idee oltre ogni frontiera. Proprio due settimane fa, Reporter Sans Frontier ha pubblicato l'annuale classifica sulla libertà di stampa nel mondo, che ha visto l'Italia scendere dal 73esimo al 77esimo posto su 180 paesi. Visto cosa sta succedendo nel mondo, oggi è difficile fare l'inviato? Sì, è difficile fare l'inviato per due ragioni. Se si pensa all'inviato di guerra, cioè il mio lavoro, le porte di guerra, non vi ho dubbio che oggi sia praticamente impossibile perché non vi è alcuna forma di protezione e rispetto a ciò che sta accadendo sul territorio, nel senso che un tempo il reporter era considerato neutrale, un osservatore o null'altro, oggi è diventato invece uno dei protagonisti del conflitto perché legittima, con la sua uccisione, col suo sequestro, legittima le forze in campo e quindi viene usato come strumento per l'attività militare. Per quanto riguarda il ruolo dell'inviato in generale, che sostanzialmente poi è il cronista che cerca di entrare all'interno dei fatti, oggi è diventato molto più difficile perché tutti sono consapevoli della centralità dell'informazione e quindi vi sono mille forme, le più sofisticate di tentativo di controllo per rendere funzionale il suo lavoro rispetto agli interessi che sono in gioco. Come sempre la misura del reale va cercata da chi è che è stimone del fatto. Quanto più il giornalismo si allontana attraverso le strumentazioni elettroniche dall'identità della realtà, di tanto il suo lavoro diventa secondario o comunque funzionale. Se il giornalismo vuol difendere la propria autonomia, alla propria libertà di intervento, deve stare quanto più possibile legato alla realtà quale che sia.